Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti infatti di libri e fumetti ultimi in realtà fra mille virgolette perché sono mesi e mesi che non faccio un video haul e non sono certa di aver incluso tutto però ho accumulato abbastanza roba piccolissima parentesi, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste continuare a vedere video haul misti come in questo caso, libri e fumetti o invece video separati perché da quando ho fatto il video haul solo sui manga mi avete detto che preferite un video a parte per i manga quindi non so se a questo punto abbia senso fare un video separato solo su libri e uno solo sui fumetti quindi manga, graphic novel eccetera detto questo direi di iniziare dai libri e fumetti che mi sono stati inviati dalle case editrici partendo da Bao Publishing il primo fumetto che vi mostro è Polina di Bastien Vivet non sono certa di aver pronunciato bene il nome dell'autore perché è francese, perdonatemi nel caso comunque troverete tutti i titoli e gli autori scritti qua sotto in descrizione questo fumetto è un prezzo di copertina di 19€ ed è una storia incentrata sul mondo della danza classica un mondo che a me personalmente affascina tanto quindi non vedo l'ora di leggerlo ecco qualche tavola per darvi giusto un'idea sullo stile di disegno di quest'autore fumetto che avete già sentito nominare qua sul canale in più di un'occasione anche perché gli ho dedicato un'intera video recensione è Un'anno senza te di Luca Vanzella e Giopota edito sempre da Bao al prezzo di 20€ questo fumetto parla della fine di una storia d'amore ed è ambientato in una Bologna un po' surreale con degli elementi fantastici veramente un fumetto meraviglioso e poi nevicano coniglietti vi devo dire altro magari sì vi faccio vedere qualche tavola giusto per darvi un'idea ma poi troverete comunque linkata anche la video recensione Residenza Arcadia di Daniel Cueio sempre edito da Bao Publishing al prezzo di 20€ questo fumetto dovrebbe far ridere un sacco io seguo l'autore su Instagram e le sue vignette mi piacciono veramente tanto perché le trovo molto simpatiche ma allo stesso tempo dovrebbe avere un messaggio abbastanza interessante, profondo dovrebbe far riflettere ne ho sentito parlare benissimo in giro anche perché recentemente c'è stato un blog tour dedicato a questa graphic novel quindi non vedo l'ora di leggerlo dato noi mi sono arrivati invece Forse l'amore di Sualzo e Silvia Vecchini autori che saranno presenti anche a Mare di Libri un fumetto che costa 14,90€ e che parla di amore in maniera poetica vi faccio vedere qualche tavola per darvi giusto un'idea del disegno un fumetto che ho richiesto io perché mi incuriosiva tantissimo lo stile di disegno è Il giardino d'inverno di Graziela Padula e Renaud D anche in questo caso si tratta di un autore francese io il francese non lo so quindi perdonatemi è un fumetto che dovrebbe trattare delle tematiche molto importanti dovrebbe essere una storia intensa ma come vi dicevo mi ha incuriosito da subito per i disegni perché è uno stile a cui non mi ero mai avvicinata prima anche questo fumetto ha un prezzo di copertina di 14,90€ dai risedizioni mi sono arrivati invece Miss Direction di Lucia Biagi un fumetto che ha un prezzo di copertina di 17,00€ ed è una storia che mi incuriosisce tantissimo innanzitutto per l'abbinamento cromatico perché lo trovo molto particolare separatamente sono due colori che mi piacciono veramente tanto magari non così tanto accesi però sono veramente molto curiosa e poi Challenger di Guillaume Lopez questo non è un fumetto bensì un romanzo illustrato ed è un prezzo di copertina di 20,00€ è molto particolare, non vedo l'ora di leggerlo perché vede per protagonista il Challenger quindi la sua preparazione, il decollo e la successiva esplosione e l'autore ci narra diverse storie che sembrano non centrare le une con le altre che vedono per protagonista delle persone che vivono tutte a Miami e che centra in un modo o nell'altro appunto con il Challenger all'interno del libro poi c'è una mappa per ricollegare appunto tutte queste storie e la trovo una cosa veramente molto originale e infine da fazza editore Absence, il gioco dei quattro di Chiara Panzuti questo libro è edito nella collana Leia quindi si tratta di uno young adult a un prezzo di copertina di 15,00€ ho trovato questo libro veramente molto particolare perché tratta delle tematiche attualissime connesse ai social, a internet parla molto di invisibilità, di identità, di viaggio è un libro che vi consiglio caldamente di leggere passiamo ora ai libri che ho ricevuto in scambio innanzitutto da Bukumuc ho trovato Poirot a Stiles Court che è il primo romanzo su Poirot che abbia mai scritto Agatha Christie e non lo so mi piaceva l'idea di averlo in questa edizione vintage anche se è leggermente usurata perché non lo so sono strana mi piace avere i libri di Poirot in edizioni diverse perché è come se raccontassero una storia e lo devo ancora leggere tra le altre cose però adesso che si avvicina l'estate è veramente molto periodo da Agatha Christie mentre su Watchbooks ho recuperato tre libri il primo è Ragione e Sentimento di Jane Austen anche questo è un'edizione un po' usurata ma non è un problema perché voglio avvicinarmi a questa autrice quindi quale modo migliore se non attraverso lo scambio e sempre della stessa autrice ho recuperato anche i Watson in questa edizione economica della Newton che non penso esista più comunque veniva 1,90 euro mentre questa è Crescere Edizioni e aveva un prezzo originale di 7,90 euro l'ultimo libro che ho recuperato è sempre un'edizione economica della Newton quella da 99 centesimi è La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas sono molto curiosa di leggere qualcosa di più famoso di quest'autore però volevo cominciare da qualcosa di più tra virgolette semplice e meno impegnativo ed era un titolo comunque che mi incuriosiva tanto quindi è anche breve vedremo un bel po' di tempo fa il catalogo 2 noire era in sconto al 25% in più avevo un ulteriore 15% di sconto quindi ne ho approfittato per recuperare un po' di titoli in particolare dei saggi che mi incuriosivano veramente tanto perché nell'ultimo periodo sono molto affamata di sapere voglio informarmi e conoscere più cose possibili anche per migliorare i video che vi propongo qua sul canale quindi il primo testo che ho recuperato che era uscito da poco in un'edizione aggiornata è Storia dell'animazione giapponese di Guido Tavassi questo saggio ha un prezzo di copertina di 28 euro ma io l'ho acquistato appunto scontato e la copertina è disegnata da LRNZ uno dei miei illustratori preferiti altro saggio che dovevo assolutamente recuperare è il manga sapete che io ho una grandissima passione per i manga quindi perché non informarsi un po' meglio sulla sua storia e quant'altro quindi l'ho recuperato il prezzo originale di copertina è di 24 euro ho preso poi due fumetti To Noé che mi incuriosivano veramente tantissimo il primo è l'Uomo Montagna che ha dei disegni delicatissimi veramente spettacolari e non vedo l'ora di leggerlo rimando sempre alla lettura perché ho paura di sciuparlo in un certo senso perché è molto breve e vorrei godermelo il più possibile questo fumetto ha un prezzo di copertina di 14,90 euro e poi ho recuperato Rughe di Paco Roca anche questo titolo mi incuriosiva veramente da molto molto tempo è una storia molto interessante perché parla di anzianità di vecchiaia di Alzheimer quindi tematiche veramente molto molto forti ha un prezzo di copertina di 16,90 euro adesso vi mostro qualche tavola per darvi un'idea dello stile di disegno ecco qua un altro fumetto che volevo leggere veramente da tantissimo tantissimo tempo ma per un motivo o per un altro rimandavo sempre all'acquisto è Persepolis di Marjan Satrapi è un fumetto veramente molto famoso molto probabilmente tanti di voi lo avranno già letto io appunto ho sempre rimandato però adesso è fra le mie mani e a breve lo leggerò vi mostro qualche tavola sempre per darvi un'idea dello stile di disegno che non è fra i miei preferiti però sono veramente molto curiosa di approcciarmi a qualcosa di nuovo soprattutto dalle tematiche così importanti e forti per chi fosse interessato questo fumetto è edito da Rizzoli al prezzo di 24 euro come vi dicevo poco fa in questo ultimo periodo sono particolarmente curiosa verso le cose che conosco poco o che mi piacciono particolarmente quindi cerco di informarmi il più possibile guardando documentari leggendo saggi manuali insomma sono in questo periodo particolare in cui ho voglia di sapere e c'era un saggio in particolare che volevo recuperare da tantissimo e finalmente ce l'ho fatta perché l'ho trovato usato su di braccio ovvero l'ambiguo malanno di Eva Cantarella condizione e immagine della donna dell'antichità greca e romana questo libro è edito dalla Feltrinelli il prezzo originale non è segnato io penso di averlo pagato fra i 4 e i 5 euro sempre sul libraccio trovato fra i Reminders ho recuperato questo libricino di cui non sapevo nulla fino a poco tempo fa ovvero La società degli animali estinti di Geoffrey Moore ho scoperto l'esistenza di questo libro sul blog She Was in Wonderland comunque vi lascerò il link poi in descrizione ed è un libro secondo me molto particolare abbastanza crudo però non lo so mi ha affascinato tantissimo mi ha colpito in particolare perché dovrebbe parlare molto della natura del rapporto fra uomo e natura dello sfruttamento degli animali quindi presto lo leggerò sempre in quell'ordine da libraccio ho preso anche Fair Play di Tove Jansson perché in quel periodo facevano il 20% di sconto o il 25% adesso non ricordo sul catalogo Iperborea questo è un prezzo originale di copertina di 15 euro io l'ho pagato mi sembra 11 o 12 euro di questa autrice ho già letto il libro dell'estate ed ero molto curiosa di leggere qualcosa di diverso sempre suo a tempo di libri ho recuperato Vivi e Vegeta di Francesco Savino e Stefano Simeone edito da Baopublishing al prezzo di 17 euro visto che erano presenti gli autori mi sono fatta poi fare la dedica che è qualcosa di veramente sublime questo fumetto avevo incominciato a leggerlo su Verticalismi ed è un fumetto molto particolare perché i protagonisti sono tutti dei vegetali quindi cactus girasoli fiori piante varie e si tratta di una storia abbastanza misteriosa in copertina viene chiamato un noir vegetariano e penso che sia una descrizione azzeccatissima sempre dalla BAU ho finalmente preso il porto proibito nell'artist edition io ho letto il porto proibito perché mi è stato prestato da una mia amica quindi non ho mai posseduto fisicamente la copia e ci stavo pensando già da un po' di tempo e finalmente mi sono decisa anche perché erano presenti gli autori quindi anche in questo caso sono riuscita a farmelo dedicare veramente sono stati veramente molto molto gentili questa artist edition ha un prezzo di copertina di 27 euro ma è un'edizione veramente molto curata veramente favolosa trovate una mia recensione di questo fumaggio sul blog nel caso fosse curiosi di approfondirlo visto che la filtrine faceva questa promozione due libri a 9,90 euro su una selezione di titoli ne ho approfittato per dare una seconda chance a Isabella Land con l'amante giapponese di suo avevo letto La città delle bestie che non mi aveva fatto impazzire quindi vorrei leggere qualcosa di nuovo suo e poi ho recuperato Il condominio di J.G. Ballard adesso è oscurato dall'etichetta però poi troverete scritto tutto in descrizione che è un romanzo di cui ho sentito parlare in giro e mi incuriosiva questo aspetto del condominio non lo so vedremo il giorno di mio compleanno sono state in libreria e potevo non comprare qualche cosa in particolare sono rimasta rapita da carta in tavola di Agatha Christie sempre un romanzo su Poirot dalla copertina veramente meravigliosa edito da Mondadori al prezzo di 9 euro e poi ho trovato un fumetto che volevo leggere veramente da tanto tempo perché la disegnatrice è bravissima è spettacolare sto parlando di Francis di Loputin o Loputina ancora non ho capito come si pronuncia il suo nome d'arte comunque lei si chiama Jessica prima che mi morisse la fotocamera stavo dicendo che il nome dell'artista è Jessica Cioffi e questo fumetto è edito da Shockdom al prezzo di 16 euro come vedete è un'edizione bella grossa e i disegni sono qualcosa di veramente magico a me piacciono veramente tanto vi consiglio di seguirla su Instagram vedere qualche sua illustrazione io mi sono semplicemente innamorata di questo fumetto ha dei disegni meravigliosi stupendi so che ripeto sempre le stesse cose ma sono veramente senza parole lei ha fatto uscire anche un altro fumetto infatti sono molto curiosa di recuperare anche quello e un artbook non so poi per quale motivo ma ogni tanto ogni tot mesi mettono in sconto i libri di Murakami in libreria quindi ne ho approfittato per recuperare l'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio libro che mi è stato caldamente consigliato dalla mia amica Sara questo libro è edito da Einaudi al prezzo di 12,50 euro ma io penso di averlo pagato tipo 8 euro dovete sapere che è un po' di tempo che vorrei leggere Orgoglio e Pregiudizio ma qua a casa ho un libro con un font illegibile quindi tutte le volte che lo comincio mi scoraggio e non lo continuo perché faccio fatica a leggerlo quindi ho deciso di recuperare il romanzo in un'edizione più leggibile ovvero questa edizione illustrata della Rizzoli che ha un prezzo di copertina di 25 euro ora è un'edizione bellissima la copertina è meravigliosa poi le pagine sono arancioni con questi fiorellini anche all'interno ci sono appunto delle illustrazioni di Eli Spatullo è veramente fatto molto bene l'unico problema è che non riuscirò mai a portarmelo in giro quindi dovrò leggerlo esclusivamente a casa però non importa farò questo sforzo in occasione del festival Mare di Libri ho recuperato due letture che mi curiosivano particolarmente le cui autrici saranno presenti appunto nei giorni del festival il primo libro che ho anche già terminato di leggere è La ragazza dei lupi di Catherine Randall questo è un romanzo illustrato edito da Rizzoli a prezzo di 15 euro ve ne ho parlato meglio in un wrap up è una storia che parla tanto del legame con la natura selvaggia la protagonista è infatti una ragazza che accoglie i lupi diciamo addomesticati e li rieduca alla vita selvaggia una storia veramente molto carina soprattutto se la si prende un po' più come fiaba l'altro libro è L'orologiaio di Filigree Street libro che ho al momento in lettura di Natasha Pulley edito da Bonpiani al prezzo di 19 euro e cioè prendiamoci un minuto per ammirare la copertina di questo libro prima ancora di sapere che l'autrice sarebbe stata presente a mare di libri avevo addocchiato il libreria questo libro appunto per la particolarità della copertina anche perché si illumina il buio e poi c'è un polpo qua che è bellissimo una storia dalle premesse misteriosi di intriganti ambientata a Londra nel 1883 che per adesso non mi sta convincendo più di tanto forse perché avevo altissime aspettative forse perché non è il periodo giusto per leggerlo non lo so direi di concludere questo immenso video con gli acquisti fatti al salone del libro innanzitutto i fumetti ho recuperato l'Humberjanes il quarto volume edito da Bao Publishing al prezzo di 14 euro ed è un fumetto che volevo prendere da tanto tempo solo che ero rimasta un po' delusa dal terzo volume quindi non sapevo se continuare o meno la serie però l'ho visto lì ci sono gli unicorni in copertina e non potevo resistergli l'altro fumetto sempre Bao che ho recuperato è di Leo Ortolani o il libro delle meraviglie questo è un prezzo di copertina di 18 euro e al momento ce l'ho in lettura devo dire che mi aspettavo un fumetto molto più divertente questo è quel genere di fumetto che non ti fa ridere ad alta voce ti fa un po' sorridere perché tratta delle tematiche delicate ma molto importanti sollevando delle questioni un po' scomode quindi per certi versi fa anche un po' riflettere e critica la società d'oggi al salone mi sono poi fiondata lo stand Iperborea perché più libri acquistavi più sconto ti facevano inoltre con l'acquisto di tre libri regalavano anche due birre nordiche a me la birra non piace ma mi è amoroso sì quindi visto che mi ha accompagnata e sopportata per tutta la giornata mi sembrava bello poter dare qualcosa anche a lui partiamo dal libro che più attendevo quest'anno già dalla copertina mi ispirava tantissimo e mi son detta deve essere assolutamente mio e sto parlando del libro del mare guardate che copertina meravigliosa che tra l'altro poi continua sul retro con questo squalo immenso proprio perché questo libro parla della caccia allo squalo in Groenlandia e quindi è una storia molto legata al mare e appunto allo squalo questo libro avrebbe un prezzo di copertina di 17,50 euro ma l'ho pagato con il 20% di sconto stessa cosa per fiabe danesi adoro le fiabe nordiche mi incuriosiscono particolarmente e ho già letto fiabe lapponi che mi era piaciuto tantissimo quindi ho deciso di recuperare anche fiabe danesi che avrebbe altrimenti un prezzo di copertina di 16 euro e infine cerchi infiniti viaggi in Giappone per ovvi motivi visto che sono una grandissima amante del Giappone questo invece ha un prezzo di copertina di 15 euro visto che Valeria del canale Read Vlog ne parla sempre ma sempre in maniera veramente entusiasta ho deciso di prendere l'estate del cane bambino di Mario Pistacchio e Laura Toffanello edito da 66 and Seconds al prezzo di vediamo un po' 16 euro ma in fiera facevano lo sconto quindi l'ho pagato 13 sono molto curiosa di leggerlo so che forse soffrirò però non vedo l'ora di tuffarmi in questa avventura questi erano quindi tutti i miei acquisti fatti nell'ultimo periodo fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate se avete già letto qualche titolo che vi ho mostrato se c'è qualcosa che vi incuriosisce o meno insomma sono molto curiosa spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao